Buongiorno da WTV News. Oggi 21 novembre la presentazione della Beata Vergine Maria e della giornata mondiale degli alberi istituita dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il suo scopo è promuovere la tutela dell'ambiente, la riduzione dell'inquinamento e la valorizzazione degli alberi e si affianca all'iniziativa analoga di alcune associazioni come la festa dell'albero organizzata dall'ambiente. La giornata degli alberi fu su tempo varata in ottemperanza alla ratifica parlamentare del protocollo di Kyoto avvenuta nel 2002. Il trattato internazionale presentato dalla Convenzione Quadro dell'ONU per il contrasto sul riscaldamento globale fu sottoscritto da più di 180 paesi nella città giapponese e nell'ambito della festa degli alberi invitava ad adottare questa iniziativa a livello nazionale per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del patrimonio arboreo e boschivo dei vari paesi.